Benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui parleremo di verifica e convalida o BNB, Verification and Validation in inglese. Che cos'è la verifica e la convalida? Beh, sostanzialmente se facciamo riferimento alla struttura che abbiamo visto all'inizio del corso parlando di software engineering, di quello che è il processo di sviluppo vediamo che dopo ogni fase, definizione di requisiti, design, implementazione, integrazione vengono prodotti degli artefatti, alcuni codici, altri documenti, modelli, altri testo e tutti questi artefatti sono soggetti a una fase di verifica e convalida. Qual è la differenza fondamentale? La differenza è che la convalida o Validation risponde alla domanda stiamo costruendo il sistema software corretto ovvero è quello che effettivamente è necessario ai nostri utenti, ai nostri clienti è sostanzialmente una misura di efficacia. Il nostro software è in grado di risolvere il problema che affliggeva i nostri utenti, i nostri committenti prima? Sostanzialmente è un punto di vista esterno, dal punto di vista di utente, che mi dice se il software potrà essere utilizzato per i propri scopi. La verifica invece risponde alla domanda se stiamo costruendo il sistema software nel modo corretto ed è una questione di efficienza, ovvero stiamo utilizzando le nostre risorse di sviluppo nella maniera giusta un punto di vista che è interno, ovvero la correttezza nel fare ogni passaggio quindi se ho ascoltato il mio committente raccontarmi cosa vorrebbe vedere nel sistema software ho fatto la traduzione corretta in termini di documento di requisiti è coerente internamente dai documenti di requisiti sono passato correttamente a un design dal design sono passato in maniera corretta al codice tutta questa serie di passaggi è sostanzialmente quello che vado a verificare cioè controllo che il passaggio sia corretto quindi all'interno di una serie di passi da documento di requisiti documento di design le varie unità quindi il codice e il sistema la verifica controlla che effettivamente tutti questi passaggi siano stati fatti in maniera corretta la convalida cerca di andare a confrontare tutti questi elementi questi artefatti con quelli che sono le esigenti dei nostri stakeholder un minimo di terminologia quando parliamo di verifiche convalida allora normalmente parliamo di errore per dire che il nostro programmatore o designer o analista che definisce requisiti ha fatto uno sbaglio questo è l'errore quello che causa sostanzialmente un fault detto anche bug ovvero una caratteristica del software che non lo fa corrispondere a quelli che sono le aspettative ovviamente il fault può essere dovuto a un problema nel software o al fatto che i requisiti di partenza erano o incompleti o non corretti quindi non è necessariamente un problema di scrittura del codice software in presenza di un fault all'interno del nostro software spesso abbiamo la sua manifestazione ovvero la failure la failure o fallimento è sostanzialmente il caso in cui il software non si comporta come noi ci aspettavamo quindi osserviamo che il software non ci dà l'output che noi attendevamo quando parliamo di difetto normalmente il difetto è un sinonimo di fault a volte difetto viene utilizzato anche come sinonimo di failure quindi questo non è esattamente corretto ma l'idea è che il difetto normalmente è sinonimo di fault quindi una caratteristica all'interno del nostro software talvolta il difetto è la manifestazione di questa caratteristica quindi in generale noi abbiamo un errore che causa un fault che a sua volta causa un failure quando parliamo di errori, difetti e fallimenti è importante andare a capire come vengono generati soprattutto quando in generale si parla di diversi momenti in cui i difetti possono essere inseriti all'interno del nostro software si identificano solitamente alcuni momenti tipici nella vita del difetto c'è un momento in cui il difetto viene inserito per cui c'è quello che viene chiamato insertion il difetto può restare latente quindi non manifestarsi direttamente per cui c'è un ritardo di scoperta finché c'è quella che si chiama la discovery quindi il difetto si manifesta diventa un fallimento, una failure e dopo un po' di tempo c'è quello che si chiama il removal ovviamente più è lungo il tempo più il difetto è complicato da identificare da trovare e da rimuovere in generale quando parliamo di costi dei difetti in base ad alcuni studi quando un difetto viene scoperto in fase di design normalmente il costo è 1 diciamo normalizzato a quello che costa risolvere un difetto in questa fase se il difetto invece viene scoperto in fase di implementazione normalmente costa 5 volte tanto perché innanzitutto la correzione del codice è più complicata e poi soprattutto è probabile che si debba anche mettere mano al design e all'architettura del sistema se il difetto viene scoperto in fase di test integrazione normalmente costa 10 volte tanto perché ovviamente il codice è già completo si tratta di andare a scoprire dove si trova il difetto quindi c'è una parte di localizzazione del difetto che può essere anche abbastanza complicata e quindi abbiamo un costo che è 10 volte se lo scopriamo in fase di beta test quindi quando abbiamo dei customer che iniziano a fare attività di test costa 15 volte tanto se avviene dopo il rilascio del prodotto quindi quando i nostri utenti già lo usano normalmente costa 30 volte tanto quindi l'idea è cercare di ridurre il più possibile il ritardo nella correzione del difetto in modo da farlo costare il meno possibile per questo quando noi andiamo a fare il design è importante andare a fare una fase di verifica e convalida perché questa potrebbe permetterci di andare a scoprire dei difetti e quel difetto costa un quinto rispetto a scoprirlo dopo in fase di sviluppo del software quindi normalmente gli obiettivi della verifica della convalida è ridurre il numero di difetti che vengono inseriti ovviamente è difficile che sia zero massimizzare il numero di difetti scoperti e rimossi in modo che siano il prima possibile e soprattutto andare a ridurre quello che è il ritardo di scoperta ovviamente è ovvio che se io vado a introdurre un difetto in fase di scrittura del codice è difficile che lo possa correggere prima perché è stato inserito dopo per cui è ovvio che devo cercare di ridurre proprio quel ritardo al momento in cui inserisco il difetto quindi commetto un qualche errore e il momento in cui lo scopro e poi lo vado a risolvere le tecniche che possono essere utilizzate per fare verifiche convalida sono sostanzialmente di due grosse categorie quelle statiche e quelle dinamiche le tecniche statiche riguardano sostanzialmente l'ispezione del codice e l'analisi automatica del codice sorgente la principale tecnica dinamica è quella che si chiama test quando parliamo di analisi statica normalmente facciamo riferimento a quelle che sono anche le analisi statiche fatte dal compilatore per cui il compilatore ci dice che una variabile non è inizializzata che non è mai utilizzata che è possibile che qualcosa non funzioni quindi tutti i warning sostanzialmente ricadono in questa categoria ci sono degli analisi un pochettino più complesse quelle che si chiamano di control flow analisi che cercano di capire i valori come si propagano e quindi sono in grado di predire ad esempio se un variabile avrà un certo valore ovviamente sono molto più complicate quindi normalmente non vengono applicate nei compilatori e poi c'è un data flow analisi che permette di andare a vedere come i valori vengono aggiornati e propagati ci sono delle tecniche di esecuzione simbolica quindi vado a sviluppare e a eseguire simbolicamente il mio programma cercando di capire quali sono gli output per poi verificarli e ovviamente c'è l'ispezione in cui io come umano mi metto a analizzare quello che è il codice e cerco di capire normalmente l'ispezione del codice viene svolta da un paio di persone che leggono il codice e poi ne discutono con chi l'ha scritto però ovviamente l'ispezione può essere fatta anche su non solo sul codice ma anche sui requisiti piuttosto che sui documenti di design quando parliamo di analisi automatica del codice normalmente abbiamo a che fare con uno strumento in grado di prendere il codice sorgente o anche il bytecode e di applicare una serie di regole che vengono verificate sul codice per andare a identificare potenziali problemi ovviamente non sono necessariamente dei problemi ma sono più che altro delle spie che ci possono dare indicazioni di un potenziale malfunzionamento molto spesso sono quelli che si chiamano code smell un code smell è un'indicazione così superficiale che qualcosa probabilmente non è fatto nella maniera ideale e quindi potrebbe essere la spia di un problema più profondo per cui gli smell normalmente sono ad esempio violazioni di alcune strutture tipiche o di regole di buona programmazione che normalmente hanno un impatto negativo su quello che è la struttura del nostro codice un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a fare la verifica è quello che si chiama debito tecnico normalmente l'idea è che il debito tecnico è tutto quel lavoro che non è stato fatto nella maniera ideale semplicemente perché si è scelto di farlo in maniera magari non perfetta perché magari c'erano problemi di tempo o era troppo complicato farlo subito o troppo costoso quindi si è scelto magari esplicitamente di farlo in maniera semplificata non ideale e quindi si sa che prima o poi si dovrà andare a mettere mano al codice ecco ovviamente più passa il tempo più andare a mettere la mano sul codice costa per cui è come una specie di debito che man mano che passa il tempo accumula interessi e più accumula interessi più costa ripagarlo e quindi nel caso specifico andare a ottenere la rimozione di quelli che sono i difetti quando parliamo di analisi statica del codice ci sono diversi tool diciamo che i due più famosi sono SonarCube e Cast che sono degli strumenti abbastanza complessi che sono in grado di andare a prelevare il codice sia by code che sorgente e fare un'analisi e identificare quelli che sono potenziali smell presenti nel codice e andando a identificare anche quello che potrebbe essere il costo necessario per andare a risolvere questi problemi ma la tecnica principale utilizzata in fase di via in via è quella dinamica ovvero il test il test è sostanzialmente il processo di andare a far funzionare un sistema o un componente di un sistema con o sotto determinate condizioni e andando a registrare quelli che sono i risultati per poter andare a identificare quelle che sono eventuali differenze tra il comportamento effettivo e il comportamento atteso ovvero quelli che noi abbiamo chiamato fallimenti o failure quindi lo scopo del test è quello di andare a trovare i difetti in modo da poterli risolvere il prima possibile quando si parla di test normalmente si fa riferimento all'unità fondamentale che è il test case che è sostanzialmente una serie di stimoli che sono applicati al sistema che viene poi eseguito e un test case è descritto sostanzialmente da un nome da una sequenza di input e da quello che è l'output atteso poi ovviamente lo possiamo descrivere in maniera molto diversa lo possiamo descrivere in maniera automaticamente eseguibile come abbiamo fatto con JUnit oppure lo possiamo anche descrivere semplicemente in formato testuale dicendo faccio queste operazioni mi aspetto questo output ovviamente i test case hanno una serie di vincoli un contesto in cui possono essere eseguiti e quando vado a mettere assieme più test case ottengo quella che viene chiamata una test suite in generale quando vado a scrivere i test case dovrei fare attenzione che rispondano a una serie di buone caratteristiche deve avere ragionevolmente una qualche probabilità di fallire se io vado a definire un test che non può mai fallire sostanzialmente è poco utile deve fare qualcosa di interessante di rilevante importante per il sistema se fa delle operazioni che poi non sono rilevanti per l'utente finale di nuovo non è in grado di andare a rilevare dei difetti che poi si possono manifestare in feglio non fa cose non necessarie quindi fa lo stretto necessario per andare a verificare alcuni aspetti non deve essere né troppo semplice perché probabilmente a quel punto non è interessante o comunque è forse troppo facile che fallisca o che succeda o che abbia successo non deve essere troppo complesso perché altrimenti è poi difficile andare a capire effettivamente qual è la causa del fallimento del test non dovrebbe essere ridondante nel senso che le caratteristiche coperte da un test non dovrebbero essere coperte da altri test e dovrebbe in qualche modo permettere di rendere evidente quelle del fallimento quindi dovrebbe andare a palesare come identificare il fallimento e capire subito se c'è i test dovrebbero essere mutuamente esclusivi nel senso che non devono essere ridondanti quindi devono essere sostanzialmente distinti l'uno dall'altro e in generale dovrebbero essere esaustivi nel senso che messi tutti assieme dovrebbero andare a coprire tutte le possibili funzionalità il processo di test prevede queste diverse attività abbiamo innanzitutto la scrittura del test che parte dai documenti di requisiti e di design e va a produrre i test case e eventualmente le test suite l'esecuzione di test che sulla base di test case e del codice produce un esito che dovrà poi essere registrato in quelli che si chiamano i test log un test log normalmente fa riferimento a un caso di test e inoltre registra quella che è la data e l'ora di esecuzione del test l'output effettivo generato dal programma e il risultato ovvero il test è passato o non è passato ovvero l'output era quello atteso o meno ad esempio se abbiamo una funzione add che ha due parametri int x e y che verranno sommati tra di loro posso definire due test case uno che somma 1 più 1 e si aspetta 2 l'altro che somma 3 e 5 e si aspetta 8 e posso avere una test suite che comprende questi due casi di test il test log ovviamente andrà a riferire a questi due test andrà a memorizzare la data e l'ora andrà a registrare quello che è l'output del programma e qual è il risultato finale del test ovvero il successo o il fallimento del test è bene tenere presente che l'attività di test e di debug sono diverse sono diverse perché diversi sono gli scopi il test ha lo scopo di andare a identificare quelli che sono i difetti presenti in un software mentre invece il debug ha come obiettivo quello di andare a identificare dove si trova il difetto e poi di correggerlo quando parliamo di debug normalmente facciamo riferimento a queste attività inizialmente la localizzazione del difetto sulla base di quelli che sono gli esiti del test la progettazione di quello che è la correzione del difetto in base ai documenti di design eventualmente al codice l'effettiva riparazione e un ritest sulla base della test suite che potrebbe eventualmente dare esito di altri fallimenti sullo stesso problema perché magari non è stato corretto adeguatamente oppure su altri problemi andando a definire quella che normalmente si chiama una regressione ovvero qualcosa che prima funzionava in base a una modifica non funziona più quando abbiamo a che fare con i test normalmente dato un test case se lo sottoponiamo al nostro software sotto test otteniamo quello che è l'output effettivo idealmente possiamo sottoporlo a quello che è un oracolo ovvero quello che ci dice qual è l'output che dobbiamo aspettarci e infine confrontare l'output effettivo con l'output atteso e andare a decidere quello che è il test attenzione che l'oracolo non è così banale idealmente io vorrei avere un oracolo che è completamente automatico ma non sempre è possibile anzi è abbastanza difficile avere un oracolo automatico e vorrei avere un comparatore che è anch'esso automatico ma anche qui non è sempre facile in alcuni casi riesco ad averlo se ho dei numeri posso semplicemente confrontarli però se ho degli output più sofisticati non è detto che io riesca a confrontarli immaginate il caso di avere un programma di elaborazione di immagini non è detto che io riesca ad avere un meccanismo automatico che sia in grado di confrontare l'output atteso con quello che è l'output effettivo anche perché ci sono tante varianti che comunque possono essere considerate corrette per cui è difficile molto spesso quello che ho è un oracolo umano ovvero chi ha scritto il codice o chi legge i requisiti sa quello che potrebbe essere l'output atteso ovviamente l'oracolo umano è soggetto a errori altri errori possono venire da quelli che sono specifiche quindi il design o requisiti possono contenere degli errori che quindi traggono in errore l'oracolo umano che quindi sostanzialmente non ha colpa produce un risultato atteso errato ma non perché ha commesso specificatamente un errore ma perché è partito da dati sbagliati quindi in generale quando io ho la necessità di eseguire un test devo per forza avere un oracolo che mi dica qual è l'output atteso ovviamente non è detto che questo oracolo sia facile ottenere se ho un oracolo umano questo si potrà basare sulle specifiche oppure su quelli che sono i giudizi personali delle persone se non ci sono delle specifiche abbastanza precise se ho un oracolo automatico questo potrà basarsi nel migliore delle ipotesi su specifiche molto dettagliate eseguibili o dei modelli che io posso utilizzare per andare a predire quello che è il risultato potrò utilizzare dei software analoghi che danno un output e quindi basarmi su quello che è il loro output magari gli stessi software che io sto cercando di andare a impiazzare con quello che sto sviluppando oppure posso andare a utilizzare le versioni precedenti del programma quindi vado a vedere quello che era l'output della versione precedente dopo aver fatto dei cambiamenti riverifico che l'output sia sostanzialmente lo stesso in questo caso vado sostanzialmente a verificare quella che è l'assenza di regressioni del software quando vado a immaginare un oracolo e a pianificare il test devo tenere presente quelle che sono alcune peculiarità del software ovvero il fatto che il software non invecchia questo è un aspetto positivo nel senso che una volta che ho verificato che un certo difetto non è presente quel difetto non potrà apparire successivamente se non per difetti che sono da imputare all'hardware sottostante il software sostanzialmente se oggi passa un test lo potrà passare per sempre tuttavia il software non è lineare e non è continuo quindi io non posso andare se ho verificato che la somma di 2 e 3 funziona andare a inferire che anche la somma tra 2 e 4 non funziona per cui dovrei in teoria andare a verificare tutte le possibili varianti tutte le possibili varianti però vuol dire fare quello che si chiama il software un test esaustivo il test esaustivo però ha dei problemi perché se immaginiamo una semplice funzione che somma due valori A e B immaginiamo interi su 32 bit il numero totale di casi che dovrei andare a verificare sono 2 alla 32 per 2 alla 32 ovvero 2 alla 64 questo numero di test immaginando di fare un test ogni nanosecondo ci porterebbe via 3100 anni quindi in pratica il test esaustivo non è possibile in un caso banale come questo quindi in generale è qualcosa di impossibile per cui quello che possiamo assumere è che l'obiettivo del test sia quello di andare a trovare dei difetti non a dimostrare che i difetti siano sostanzialmente assenti quindi l'obiettivo finale generale dell'attività di VMV è quello di garantire che ci sia una qualità abbastanza buona del software per modo da dare una confidenza in chi lo utilizzerà che possa comportarsi in maniera adeguata in generale questo può essere riassunto con quella che è la tesi di Dijkstra che dice che il test può semplicemente rilevare la presenza di errori ma mai dimostrare la loro assenza quando parliamo di test parliamo di diverse tipologie quindi possiamo andare a raggruppare i test ad esempio per fase base a quello che è il test di unità di integrazione di sistema oppure i testi di regressione o l'approccio che utilizzo per andare a scrivere i test ad esempio black box rispetto a white box oppure posso fare i testi di affidabilità oppure posso fare i test di rischio per andare a identificare difetti legati alla sicurezza quando parliamo di fase normalmente facciamo riferimento a queste tipologie principali i test di unità che si riferiscono ai singoli moduli quindi se parliamo di Java normalmente una classe o un insieme ristretto di classi i test di integrazione quando io metto assieme più moduli e vedo se possono interagire correttamente tra di loro quindi più package ad esempio o i test di sistema quando io prendo tutto il sistema e vado a verificare se effettivamente nella sua interezza svolge il ruolo che dovrebbe ci sono anche dei test che vengono chiamati di accettazione che in quanto a ambito che ricoprono sono analoghi i test di sistema soltanto che i test di accettazione normalmente sono scritti e eseguiti da chi acquisisce il software mentre invece i test di sistema sono scritti e eseguiti da chi produce il software quando parliamo di test di unità normalmente si distinguono due tipologie di test in termini di come vengono scritti ovvero i test black box detti anche funzionali e i test white box detti anche strutturali i test black box immaginano che il software sia una scatola nera e quindi non si curano di come è costruito il software e quali sono le istruzioni che compongono i metodi che vogliamo andare a testare per cui posso utilizzare delle tecniche che sono ad esempio il test random oppure vado a identificare delle classi di equivalenza tra quelli che sono gli input e quindi vado a garantire che ci sia un test per ogni classe oppure posso andare a verificare le condizioni limite ad esempio il primo elemento di un array e l'ultimo invece l'altro approccio quello white box va a vedere la struttura interna del codice e quindi garantisce che tutti gli elementi della struttura interna siano effettivamente coperti dai test per cui posso avere un criterio molto semplice che è la copertura di tutti gli statement quindi vado a scrivere un numero di test sufficienti in modo che in almeno un caso di test ogni statement venga eseguito oppure vado a verificare che tutte le condizioni ad esempio gli if vengano verificate quindi verifico che venga eseguito sia il ramo true che il ramo false degli if il path è una versione leggermente più complicata per cui vado a verificare che tutti i percorsi possibili all'interno del mio metodo vengano eseguiti quindi non solo eseguire sia il ramo true che il ramo false ma andare a eseguire tutte le possibili combinazioni di true e false delle varie decisioni che sono in cascata oppure posso avere un criterio che va a coprire i loop quindi va a verificare che i loop vengano eseguiti un certo numero di volte quindi questi due approcci che ovviamente non sono mutuamente esclusivi sono abbastanza diversi in generale è possibile applicare un approccio white box quando io vado a fare dei test unità mentre invece quando uso quando vado a osservare il mio sistema più ampio quindi faccio test integrazione del sistema normalmente quello che utilizzo è un approccio black box quindi funzionale vado a verificare le funzionalità senza entrare nel dettaglio di quelli che sono le strutture interne del mio codice quando vado a parlare di test integrazione normalmente quello che faccio è di andare a raggiungere un elemento per volta in modo da garantire che è facile identificare qual è l'elemento o la cui aggiunta causa dei problemi per fare questo normalmente ho bisogno di elementi che si chiamano stub ovvero delle emulazioni di quelli che sono i componenti che io non sto integrando ma che integrerò in fasi successive e quindi delle pezze di codice che simulano altri elementi più complessi questi vengono chiamati molto spesso anche mockup la fase più ampia di test è quella che normalmente viene invece chiamata di sistema in cui vado a verificare che il sistema nel suo complesso sia effettivamente rispondente alle caratteristiche richieste per cui vado a fare normalmente test di tipo funzionale quindi ovviamente non strutturale andando a coprire quelli che sono specifici scenari d'uso oppure andando a fare quelli che sono test end to end ovvero inizio a seguire un caso d'uso reale dall'inizio fino alla fine ad esempio vado a verificare l'immissione di un ordine nel mio sistema di commercio elettronico finché arrivo alla conclusione ovvero alla conferma della ricezione del pacco ovviamente quando faccio dei test di sistema l'obiettivo è di testare il mio sistema nelle condizioni che sono il più possibile vicine a quelle reali ovvero quelle in cui andrò a rilasciare il sistema in produzione un cenno particolare a quelli che sono i test di regressione ovvero i test che vengono fatti per andare a verificare che nel momento in cui faccio una modifica quello che funzionava nella versione precedente non smetta di funzionare e quindi se io a un tempo 0 un elemento che funzionava mi aspetto che al tempo T1 quando ho fatto delle modifiche il test continui a passare in generale tanto per riepilogare abbiamo parlato di VNV cioè verifica e convalida che prevede due tipologie di controlli interni e quindi parliamo di verification o verifica ed esterni ovvero convalida in generale io posso applicare le tecniche di VNV in termini statici e quindi spesso andiamo a fare analisi del codice oppure ispezione oppure in maniera dinamica e quindi qui andiamo a utilizzare quello che è il test quando parliamo di test ricordiamoci che l'obiettivo del test è quello di andare a verificare che ci sono dei difetti ed è impossibile andare a provare che sono assenti in generale poi quando abbiamo dei difetti sui dati dei test posso applicarli a diversi livelli di granularità per cui si parla di test di unità, di integrazione, di sistema ed eventualmente di accettazione un test particolare è quello di regressione che normalmente viene svolto a livello di unità ed è mirato a verificare che non ci siano l'introduzione di difetti quando faccio delle modifiche infine abbiamo menzionato due tipologie di approcci nell'andare a scrivere i test quindi quello black box che non si occupa di quella che è la struttura interna del software e quello white box che invece cerca di andare a coprire tutti gli elementi della struttura di un software